La presenza dell'assessore Cascino, avere l'assessore qui significa avere un ente come la regione Liguria più vicina e presente sul territorio. Ovviamente l'amico Giacomo che ci ospita, io sono felice di poter partecipare a questo incontro perché andiamo a dare informazioni preziose a quelle che sono i cittadini che vengono a fare e usufruire delle nostre spiagge e soprattutto anche i turisti, indipendentemente poi da quelle che magari sono altri episodi che vengono a conoscenza sui giornali, però noi possiamo dire di avere molte spiagge con questo tipo di stelle, quindi abbiamo dei livelli eccellenti a Sanremo che possono dare un servizio di qualità ai turisti e ai cittadini. Io ne approfitto che ce l'abbiamo qua, noi dobbiamo fare come amministrazione uno sforzo per andare a potenziare quelle che sono le spiagge perché noi siamo una città di mare, viviamo sul turismo di mare, non solo quello, come diceva giustamente, abbiamo anche altre attività turistiche, il festival, tutto quello che comportano anche altre manifestazioni. Io mi guardo alle spalle e dico un mare così lo vediamo ai Caraibi, quindi direi che se noi riuscissimo con la regione a intraprendere un percorso dove noi possiamo pensare di potenziare le spiagge ed avere finalmente delle spiagge come si deve, in quanto sabbia, tutto quello che c'è, sparcheggi, viabilità, eccetera, forse potremo pensare di fare un salto di qualità e portare di nuovo Sanremo ai livelli che tutti conosciamo. Grazie.